Buongiorno a tutti, benvenuti a una nuova puntata sul tema diario, sul tema Gochi V4 e V4.5. Oggi sarà una puntata un po' speciale, un po' particolare, perché questa generazione mi ha lasciata un po' sconvolta, nel senso che ha rovinato un po' i miei pieni che avevo per l'ultima generazione su questo tema diario. Comunque, sì, mi ha riservato delle sorprese, però partiamo con il V4.5, perché la vera sorpresa è nel V4, ma la lascio per dopo, scusate. Allora, come potete vedere, ho Conan, che ha avuto un cucciolo, si è sposato ieri, ieri ha anche cambiato lavoro, Comunque, volevo parlare un po' del piccolino, che è un maschio, quarto maschio di seguito sul Tama Gochi V4.5, e praticamente non avrò mai una femmina, a quanto pare. Per cui, sì, sta cominciando la quarta generazione, comunque, come dicevo, ieri Conan ha cambiato lavoro. Finalmente, allora, attiviamo i suoni, finalmente, dopo qualche giorno come cantante, sono riuscita a trovare il lavoro che volevo per lui, c'è quello al circo, che è uno dei tre lavori particolari del V4.5, che differiscono da quelli del V4. Andiamo a ritirare la paga, perché per oggi non ci sono ancora andata. Come vedete, lavora il circo. Vediamo se la paga è buona quanto quella di cantante, che quella di cantante mi lasciava al minimo 2000 Gochi Points al giorno, e a quanto pare no. Questa del circo, un po' meno. Un po' meno buona come paga, però vabbè, abbiamo sfruttato l'altra molto bene, e comunque oggi sarà l'ultimo giorno con Conan e quindi non avremo paga domani, perché se ne andrà, tornerà al pianeta di Tamagotchi e ci lascerà quel piccolino. Quindi comincerà la quarta generazione. Comunque farò sempre un video dedicato al lavoro, al circo, per cui potrete vederlo più avanti. Molto bene, questo per quanto riguarda Conan, che mi sa che salutiamo qui. Per quanto riguarda invece il V4, la vera sorpresa sta da lui, perché appena ho finito di registrare la puntata speciale per il centesimo giorno con il Tamagotchi V4, vi giuro che in due secondi, dopo che ho terminato la registrazione del video, ma due secondi reali, non un modo di dire, questo è ciò che è accaduto. Gawain è diventato un anziano e quindi qua decadono tutti i piani che avevo fatto per l'ultima generazione insieme al Tamadiario. Volevo cominciare l'ottava generazione, ma ormai non sarà più possibile, perché Gawain, appena arrivato al decimo giorno di vita, è diventato un anziano. Ora, i Tamagotchi diventano anziani dal decimo al sedicesimo giorno di vita, per cui potevo avere ancora un po' di tempo con lui da adulto, però lui ha deciso che no, ha voluto diventare subito anziano, e quindi è diventato questo personaggio buffissimo. Anziano. Perché sì, l'organizzatrice di incontri romantici non arriva più quando il Tamagotchi è anziano. L'unico modo che avete per farlo sposare è avere un altro Tamagotchi anziano del sesso opposto. Allora sì, possono sposarsi tra di loro, avere un figlio, ma in questo modo no, non è così. Per cui, mi sa che questo Tamagotchi V4 si ferma alla settima generazione, dopodiché, se vorrò ricominciare, ricomincerò dalla prima. Per fortuna, vabbè, tutti i soldi e i premi rimarranno. Però, purtroppo, questo è ciò che è capitato. Tra l'altro, ho scoperto, ed è la prima volta che ho un anziano come Tamagotchi, Sì, volevo andare al lavoro. Comunque, provando ad andare al lavoro, in realtà, andandoci, è arrivato il re dei Tamagotchi e mi ha lasciato il bastone. E quindi col bastone, praticamente, sono andata in pensione e non ho potuto più andare a lavorare. Adesso vi faccio vedere, vedete, come simbolo ho il bastone, vuol dire che sono in pensione. E l'unica cosa che posso fare è andare in giro per i vari luoghi di lavoro a ricordare i bei tempi in cui avevo un lavoro. Quanto è triste questa cosa, è tristissima. E non ho neanche una paga come pensionato, cioè, allucinante. L'unica cosa che posso fare è andare a vedere il parco dei divertimenti dove lavoravo, sospirare e poi tornare a casa. E questo è quanto. Ora, vediamo cosa posso far fare a questo vecchietto. Abbiamo un po' di oggetti. Vediamo se c'è qualcosa che possiamo fargli fare. Tra l'altro sono anche rimasta senza soldi con questa generazione. Ne ho veramente pochissimi. Ah, non ho neanche niente di particolare. Vediamo se al negozio c'è qualcosa da acquistare. Una canna da pesca. 600 punti, buttati via. No, dai, lasciamo stare. Niente, per l'ultima volta facciamo incontrare questi due fratelli, perché vi ricordo che sono nati dagli stessi genitori. Per cui, sì, possiamo farli incontrare e giocare un'ultima volta insieme. Giochiamo. Chi vincerà? 200 punti. Vediamo. Chi è più bravo? Il fratello giovane o il fratello anziano? Ovviamente l'anziano, poverino, ha qualche problema. Povero. Non solo ha bisogno di soldi, ma quando gioca non gli ridanno neanche, non vince. Questa sì che è un'ingiustizia. Per la prima volta sono piena di soldi nel Tamagotchi V4.5, ma nel V4 no. Ne ho veramente pochi. Quindi, vabbè, questa è la sorpresa che mi hanno fatto questi due. Han deciso uno di farmi un altro maschio e l'altro di diventare anziano. E giuro, se non fosse stato per quei due secondi, avrei potuto filmare in diretta, nel video del centesimo giorno, con il Tamagotchi V4, la sua crescita e il suo passaggio nell'età anziana. È stato veramente un peccato. Tempo due secondi, veramente, è il colmo. Il colmo in tutti i sensi. Per cui, vabbè, adesso ci vedremo con la nuova generazione sul V4.5, quando Conan se ne andrà e ci lascerà quel piccolino. E con lui vediamo quanti giorni durerà ancora, perché è il suo undicesimo giorno. Vabbè, segna ancora dieci anni, comunque oggi entra nell'undicesimo. E vediamo per quanto resiste, cioè l'ideale sarebbe che resistesse fino alla fine, cioè fino a quando mi ero proposta di arrivare, cioè il 31 di maggio. E molto probabilmente voi vedrete questo video, non dico il 31, ma un giorno molto vicino al 31. Per cui, vi ringrazio per l'attenzione, per questa puntata. Salutiamo i nostri due eroi, speriamo di rivedere ancora lui, Gawen. E ancora, grazie molto per seguire e vedo che apprezzate molto questa serie. Il vostro supporto mi incoraggia tantissimo. Per cui, ci vediamo presto e intanto vi auguro una buona giornata. Grazie a tutti, ciao!